Cos'è che ci vuole? Ripeti, la bancarella delle idee. Cos'è sta cosa, Nicola? Ripeti, che non... Spiegami come deve essere questa bancarella delle idee. No, dai, stai facendo il video, Nicola. La bancarella delle idee? Secondo me dovrebbe essere... Dovrebbe essere un punto di ritrovo dove la gente esprime i propri pensieri, dove può condividere un'idea, un ideale. Ma allora la bancarella dei consigli ci sta di più. La bancarella dei consigli... Nuova proposta al sindaco di San Donato. La bancarella dei consigli per la gente che non sa cosa fare in un periodo di crisi dove litica morale non è più dei giorni nostri. Cosa faremo, signore? E' qui qua, il banco dei consigli. Non mi da vedere questo video. Picca, picca.